Stasera Piesa Eurdy, anche il banco è presente, anche per voi non è la prima volta, ma per te sì. Sì, assolutamente sì. Non siete, diciamo, partner di Egger, quindi non, come dire, l'invito e l'invito per stare più insieme, non come clienti. Spero che, insomma, questo inizio sia andato bene. Assolutamente sì, è stata un'esperienza, direi, unica, un'esperienza importante. La dimostrazione come le piccole aziende che crescono, che nascono, che danno assoluta qualità, vale per il mondo bancario, ma vale anche per le aziende vinicole. Ci ha dato dimostrazione come i feudi da piccole aziende sono diventati fondamentali per la qualità del vino prodotto. Quindi è un'esperienza importante. Anche il tour che mi ha fatto in cantina ci ha dato dimostrazione di come la qualità sia fondamentale, sia fondamentale per tutto e anche per la produzione dei vini. Quindi ringraziamo assolutamente Egger perché è un'esperienza importante. Poi come società che ha le radici del Piemonte, anche, c'è una piccola, una piccola di buona parte campana. All'inizio di oggi mi sono immedesimato proprio per questa crescita, paragonando molto alla società che rappresento, con i feudi, piccola azienda vinicola che cresce, che diventa di qualità. Mi sono molto rivisto in questa crescita dei feudi, paragonando molto il percorso che stiamo facendo noi, con il percorso che ha fatto i feudi. È stata veramente una bellissima esperienza. Allora, un augurio di crescita e di prosperità. Grazie. Grazie.